I soliti gnoti, scena 1, seconda, 25, 10, 2011, classe terza, scuola elementare, Verrua Savoia. E' buona, buona, rubare, è un mestiere impegnativo, ci vuole gente seria, mica come voi, voi al massimo potete andare a lavorare. Lavorare, lavorare è impegnativo, è buona, non la voglio, ok? E' buona, e basta i zeci. Ma come si apre sta barattola? Questo è uno degli scazzatori. Oh, tira così! C'è del ghiaccio, beh, ci sono quattro i voltini. Buona, non è male. Mi do una scaldatina. Una goccia di olimpio ci vorrebbe. A me non mi pare. Senti un po'. Dalle nostre parti si dice, femmina piccante, pira per amare. Femmina cucinè, pira per amare. Ragassuoli, mi sa che abbiamo rotto la cannella dai gas. Non! Comune!